Alla regista Antonio Calenda la cittadinanza onoraria di Siracusa. Le sue regie hanno dato rinnovato impulso alla divulgazione della cultura antica e ulteriore lustro alla fondazione india la città di Siracusa contribuendo a diffondere nel mondo l'immagine di una città che fonda sul valore della cultura e di quella classica in particolare il penno identitario della propria storia milionaria. La città di Siracusa ha conferito al regista Antonio Calenda la cittadinanza onoraria. La cerimonia si è svolta al teatro greco pochi istanti prima dell'inizio del lagamennone di Eschino. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Siracusa Francesca Italia insieme a Manuel Giliberti, consigliere d'amministrazione della fondazione india con loro sul palco anche Gaetano Azzia responsabile dell'ufficio della cerimoniale del comune di Siracusa. È un momento molto significativo per la città, per questo teatro, per la storia della fondazione india detta il sindaco e il presidente dell'india Francesca Italia ed è un onore poter conferire la cittadinanza onoraria di Siracusa a un regista che con la sua opera anche da questo meraviglioso palcoscenico ha contribuito in modo significativo a diffondere la cultura classica in Italia e nel mondo. La presenza a Siracusa di Antonio Calenda sono state le parole di Manuel Giliberti che ha affermato una particolare realtà dell'india, la ricerca filologica applicata alla messa in scena. Questo riconoscimento per me è motivo di orgoglio e di profonda commozione, ha detto Calenda visibilmente emozionato. È una commozione che si ingrandisce in maniera smisurata perché il teatro greco di Siracusa è uno dei luoghi sacri della cultura occidentale. Il mio pensiero va a tutti i cittadini di Siracusa e quando parlano del loro teatro hanno gli occhi lucidi e illuminati.